Almeno 49 le prostitute che in sei mesi hanno lavorato negli appartamenti per così dire suoi. Sale di tono l'operazione dei carabinieri non solo affitti contro il mercato degli appartamenti affittati per il meretricio in casa. Alla fine il decano degli immobiliaristi Silveroli, Ottavio Pacifici, 59 anni con precedenti specifici risalenti al 2002, è finito nella rete. Ci è voluta una lunga e complessa attività investigativa, perché non basta individuare un appartamento dove ci sono donne che si prostituiscono. Attività peraltro non perseguibile. Bisogna dimostrare che l'immobiliarista è consapevole del meretricio e che da quell'attività trae profitto. I reati di favoreggiamento e sfruttamento è quanto hanno dimostrato i carabinieri in oltre 30 pagine dell'ordinanza di arresto. Il Pacifici aveva imparato dalle precedenti due tranche dell'operazione non solo affitti, due arresti nel marzo dello scorso anno ed il processo che sta per essere celebrato in questi giorni, mentre i due arrestati a maggio hanno patteggiato la pena. Non solo faceva ruotare le donne negli appartamenti, addirittura si dimostrava disponibile con le forze dell'ordine, intimando lo sfratto a inquiline prostitute, iscrivendone altri a corsi di sartoria e quant'altro. In realtà razzolava male e i carabinieri, oltre a scoprirlo, lo hanno documentato. Nonostante la grande azione di controllo e repressione, ha commentato il comandante delle Grazie, il fenomeno prostituzione quasi scomparso dalle strade silvarole persiste in appartamento, a dimostrazione del grande giro d'affari che ruota intorno al sistema degli affitti, in periodi morti come autunno ed inverno. L'arresto di Pacifici sta a dimostrarlo, poi Sibillinamente aggiunge, e non è ancora finita.